Roberto Barnada, dirigente della dimensione generale Musei, che sono felice di avere con me in quanto collega, archeologo e rappresentante di quella istituzione nella quale, diciamo che, potessi e erede di ciò che Barnadei aveva creato e costituito. Grazie, Roberto. Grazie, direttore. Buongiorno a tutti. Sono Roberto Barnada, come direttore della direttore di inizio. Non sono un dirigente della direttore di generale Notè, ma sono funzioni del servizio secondo che, a un momento avvocato dal direttore di generale Massimo Tanna, si rappresento qui indegnamente. Purtroppo non è potuto venire perché impegni continui, improvvisi, come ministro che hanno perduto la partecipazione. Ringrazio di nuovo il direttore di inizio e ringrazio tutto lo staff di Vita Giulia, un istituto che ormai ci ha condiviso abituato ad una strategia vitalità, ha messo in atto tutte le iniziative ed eventi che ne fanno, diciamo, un polo di attrazione sul territorio in particolare di rilevanza. Venendo, diciamo, al tema di oggi, io mi astengo sugli aspetti tecnici relativi alla nostra, che saranno tagliati dai pesatori, e voglio confermare molto brevemente sul recupero, appunto, della ricostruzione del tempio di Alacri, che naturalmente, grazie appunto a questo importante investimento da parte del ministro, viene, come dire, riportato alla tua funzione originaria, cioè alla tua funzione didattica e comunicativa, dopo essere stato adibito per, immagino, un bel po' di anni a una funzione, come dire, non consona rispetto all'iniziale intenzione. Il direttore ha parlato di Open Air Museum, ed effettivamente è, diciamo, un concetto che rimanda più ad una tradizione nord-europea e, magari, in atto, eccessivamente, anche nord-americana. Probabilmente anche per le caratteristiche tipiche, del nostro paese, che, come sapete, ovviamente, straluminamente ricostruzioni culturali, in qualche modo i nostri epimomene e museum sono le esterminate aree in parchi archeologici che in Italia possiede. La realizzazione, però, all'interno del studio museale, una ricostruzione, vedete, sui dati di scapo di un, diciamo, di un apparato importante come quello di Aladri, è un passo importante per una migliore comprensione anche del rapporto museale. Una migliore comprensione che viene, appunto, dalla possibilità di mettersi in un ambiente ricostruito interamente dal passato, attraverso anche la prossima utilizzazione di tecnologie digitali, che permetterà, appunto, un'esperienza immagino totalizzante per i diversi tipi di pubblico. Ecco, questo è un aspetto che incrocia molte delle politiche che la direzione generale presenta in questo periodo, legate soprattutto al piano nazionale di potenza e resilienza, in particolar modo all'accessibilità. L'accessibilità viene legata anche al tema della tradizione digitale. Noi, in direzione generale, abbiamo un progetto, l'anno scorso, appunto, di trasformazione digitale dei luoghi della cultura che parte da, per il momento, da alcuni siti, da Pompei, da Sibali e dalla legge di Caserta e che vuole stabilire una serie di, diciamo, prassi da estendere poi a tutti gli studi del ministero e che riguardano i vari aspetti, insomma, del GDAP, dalla safety e security, dall'oppositioning, da tutta una serie di aspetti, a cominciare dalla volentilità spesso assente in contegno della cultura, anche ministeriali. Per cui, diciamo, questo progetto si incrocia molto bene con le politiche della direzione generale che, ricordo, sta tra l'altro realizzando una piattaforma di servizi end-to-end per i luoghi della cultura, che da un lato deve essere una vetrina, diciamo, per tutti i luoghi della cultura, non soltanto quelli del ministero, ma anche i luoghi della cultura appartenenti alle regioni, soprattutto ai comuni, ma anche a privati, nell'ottica, diciamo, del sistema museale nazionale e che sta sviluppando una serie di servizi che verranno, tra l'altro, parati in primo rilascio della piattaforma a giugno con un servizio di ITD. Si stabilirà, diciamo, una piattaforma di direzione nazionale interamente basata su questa piattaforma. La piattaforma poi verrà nel tempo con successivi rilasci implementata da tutta una serie di servizi, ugualmente, appunto, come dicevo, la serie di servizi, ma anche servizi di valorizzazione, come servizi al pubblico, che dovrà, ad esempio, utilizzare un'app dedicata per avere, attraverso le tecnologie appropriate, contenuti in diretta riguardanti l'istituto che sta visitando. Progetto controvizioso in cui, diciamo, la nostra direzione sta investendo energie e il ripostituto di finanziamenti anche del piano nazionale di protezione.